Salve amici, oggi andiamo a vedere come con pochi mezzi, con pochi soldi possiamo raggiungere la piena soddisfazione facendoci una bella sega. E allora, tra le cose che io metterei in lista come necessarie direi, beh, sicuramente un bel guanto per non prenderci le malattie. In questo caso, tra le malattie menzionabili, ci potrebbe anche essere il tetano. Per quanto riguarda invece il discorso prettamente manuale, beh, un calzino aiuta. Meglio se vecchio, anche perché è da considerarsi un materiale comunque di sacrificio. In ultimo, ma non ultimo, ovviamente ci vuole la sega. Vedete? Qui ho una lama di quelle bimetal, flessibile, che in casi particolari veramente ci può risolvere situazioni molto molto scomode. Situazioni dove, possibilmente, quello che è il supporto originale, il supporto naturale della sega, non può arrivare per due ragioni. La prima, possibilmente perché non ce l'abbiamo, la seconda perché magari quello che è da segare si trova alle spalle di un altro oggetto, che non possiamo andare a rimuovere, proprio perché magari è fissato da un supporto che dobbiamo eliminare, e l'angolazione, lo spazio, non ci consente di arrivare agevolmente di dietro. Molte volte non possiamo ritrovarci così, ma dobbiamo andarci di sbieco. E allora, che accade? Che può anche essere che la smerigliatrice, che è un'altra tipologia di sega, non arrivino, e il fatto di trovarci comunque delle lame flessibili ci consente di poter lavorare in questo modo. Addirittura, visto che queste lame flessibili hanno i due fori agli estremi, che poi servono in origine per andarsi ad agganciare a quello che è il supporto proprio naturale, beh, in uno di questi due fori c'è la possibilità di andare a mettere un filo, un cavo elettrico, che poi ci risulterà comodissimo per effettuare il rimando, il movimento di rimando della sega. Quindi io cosa faccio? Semplicemente vado ad avvolgere uno dei due estremi, quello opposto al filo con quello che può essere uno straccio, un calzino vecchio, possibilmente pulito, e vado a far passare la sega alle spalle dell'oggetto che mi crea l'impedimento. In questo modo, sfruttando proprio la flessibilità dell'oggetto, posso raggiungere la parte da segare e con questa mano, quella col guanto, mi vado a tirare quello che è la lama incidendo sull'oggetto da segare e con l'altra mano, questa qua alla sinistra, poi mi vado a ritirare in direzione opposta quello che è la lama tagliente. In questo momento, in questo modo, scusate, posso effettuare un movimento abbastanza congruo alla mia necessità e risolvere quello che in certi casi potrebbe rappresentare un problema. Come vedete è un video, un escamotage molto semplice, bisogna soltanto pensarci, il più delle volte la soluzione è lì davanti a voi, solo che per mille ragioni uno non ci arriva, non gli si accende al momento quella lampadina, magari ti si accende dopo un giorno, una settimana, avrei potuto fare in quest'altro modo. Beh, se avete visto questo video, magari la soluzione, la necessità non vi si presenterà per un anno, un mese, chissà, o mai, però in ogni caso è un arricchimento in più che all'occorrenza potrete utilizzare chiaramente con la massima resa e, come si dice, il minimo sforzo, anche dal punto di vista economico. In ogni caso, come sempre dico, se trovate questa tipologia di video interessanti, validi e appropriati per quelle che sono le vostre attività, vi consiglio di iscrivervi al canale, buttateci anche un like, già che ci siete, e poi ci becchiamo nei video che verranno. D'accordo? Con questo è tutto, un abbraccio e alla prossima. Ciao!